Oggi celebriamo la Domenica del Buon Pastore, la Domenica in cui la Chiesa prega per le vocazioni, soprattutto quelle al sacerdotio. Ogni persona ha vocazioni. Il messaggio di oggi è una risposta di vita. Chi è il Buon Pastore? Il Buon Pastore è con lui che dà la sua vita per le sue percoli, come Gesù ha fatto per noi. E lui chi è chiamato il Buon Pastore per eccellenza, coloro che gli sono affidati di vivere pienamente. E oggi siamo tutti chiamati a svolgere il ruolo del Buon Pastore, gli uni per gli altri. Nella famiglia, il marito per sua moglie, la moglie per suo marito, i genitori per i figli, i figli per i genitori. Nella Chiesa, i sacerdoti per i figli, i figli per i sacerdoti. E attraverso questo Vangelo siamo invitati a camminare sulle ombre del Signore. Essere buoni pastori per le persone intorno a noi. Buona Domenica a tutti. Ciao.